Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è venerdì, 16 novembre 2012. Vedete il titolo del video? Le misure del pene, bis, perché ogni tanto devo tornare su questo argomento. Essendo io l'autore di questa opera storico-mitologica, la stipe del serpente, è dove ho affrontato proprio queste tematiche. Ho affrontato la questione del passaggio dal matriarcato al patriarcato, ai tempi della guerra di Troia, appunto considerata come momento cruciale del passaggio covento dal matriarcato al patriarcato. Avendo affrontato proprio queste questioni, ogni tanto sono costretto a tornare sulle misure del pene, perché mi ci portano gli amici, mi ci portano gli amici. Ah, si tenga presente, si tenga presente, che questo video si intitola Le misure del pene, bis, bis, perché c'è già un mio lontano video intitolato Le misure del pene, poi c'è un altro mio video intitolato Torniamo sul pene, ma sempre perché io sono l'autore di questa opera storico-mitologica, hai capito? Chi non conosce quest'opera, chi non la letta, magari gratuitamente, in una bella biblioteca comunale, non capisce nulla di come vanno le cose a questo modo. Ora, è questo amico, vedete? Questo amico che mi invia un articolo, vedete, Griffon 980, vedete che bello che è l'Avatar, mi manda un articolo particolare, guardate un po' l'articolo, guardate un po' che cosa si deve leggere ancora, dopo che sono quattro anni che sul web io dico certe cose, si debbano leggere ancora certe notizie, questo è un grande quotidiano online, Blitz quotidiano, e vediamo un po', Blitz quotidiano, qua c'è, vi faccio vedere, d'accordo, il link, se qualcuno vuole andare poi a verificare, il link, l'articolo che dice? È l'articolo del 14 novembre, quindi dell'altro ieri, Edimburgo, Edimburgo, e ha letto, ha letto, ha letto, le dimensioni contano, e come? C'è scritto così, e come? Per la precisione, per far felice una donna, servirebbero almeno 14,9 centimetri, cioè servirebbe un pene, lungo circa 15 centimetri, almeno però, servirebbero almeno, uno studio, uno studio condotto dallo psicologo scozzese, Stuart Brody, poi magari è andato a cercare su web, oi costui, Stuart Brody, Brody, afferma che le donne che hanno frequenti orgasmi vaginali, raggiungono il piacere, con un pene di dimensioni più grandi, smentendo così di fatto la vulgata, la vulgata, secondo cui non contano le misure, ma l'uso che se ne fa, la vulgata, capito? Ma l'uso che se ne fa. E Brody, cioè, Stuart Brody, docente presso la, docente presso la, West of Scotland University, ha intervistato un campione di 323 studentesse, sulla qualità dei loro rapporti sessuali, soffermandosi su quanto le dimensioni dell'orgasmo maschile abbiano inciso sul raggiungimento del piacere. Le ragazze che dichiaravano di aver raggiunto una maggiore quantità di orgasmi erano quelli che avevano avuto un partner particolarmente dotati e quindi in grado di stimolare l'intera zona della vagina, d'accordo? L'intera zona della vagina, capito? Eccoci qua, l'ultima, come si dice, l'ultima offensiva patriarcale, patriarcale, perché il patriarcato è una fallocrazia, e per quale motivo il patriarcato sia una fallocrazia, ve l'ho spiegato qua. A questo signore però, le ragazze poverine che potevano sapere, le ragazze poverine che potevano sapere, a questo signore ci dovrebbe spiegare per quale motivo, perché, per quale motivo il patriarcato ancora oggi si taglia, alle bambine piccole si taglia l'aclitoride, perché ancora ad oggi si fa l'aclitoridectomia, che poi, dico oggi, ma fino a 100-150 anni fa la si faceva anche dappertutto, in un certo video di cui non ricordo il titolo, dimostrato che la si faceva l'aclitoridectomia anche nell'Europa, fino a 100-150-200 anni fa, non mi posso ripetere all'infinito, però in tutto il mondo si faceva l'aclitoridectomia, e oggi la si fa nelle zone tribali, e sino all'altro ieri si faceva l'aclitoridectomia nel paese a noi vicino, l'Egitto, l'Egitto, poi è dovuto andarci a Emma Bonino, cinque anni fa, ci sono seduti attorno al tavolo, e lì hanno fatto delle pressioni, e il Parlamento Egiziano, quattro-cinque anni fa, ha votato una legge che ha dichiarato fuori legge, fuori legge l'aclitoridectomia, però la si fa ancora di nascosto, questo signore deve dire perché si fa l'aclitoridectomia, perché? 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 Ci sono tanti modi poi di clitoridectomizzare le donne, per esempio anche queste ragazze sono state clitoridectomizzate, perché se queste ragazze hanno letto le opere di Sigmund Freud, hanno imparato che nelle opere di Sigmund Freud c'è scritto che una donna matura, c'è scritto così nelle opere di Sigmund Freud, la donna matura, una donna cresciuta bene, è una che gode in profondità, cioè ha il piacere all'orgasmo vaginale, diceva Sigmund Freud, il fondatore della psicoedasi, grande patriarca, quanti video ho dedicato a Sigmund Freud, invece la donna che gode in superficie, dove c'è l'aclitoridectomia, è una donna immatura, perché Sigmund Freud definisce vaginal, definisce l'orgasmo clitorideo, e l'orgasmo di una donna immatura, capito? Senza però spiegarci, Sigmund Freud senza spiegarci, perché in tutto il mondo esisteva, ed esiste ancora, la pratica della clitoridectomia, e perché si porta via? Perché i patriarchi avevano scoperto che le donne godevano tanto bene in superficie, bastava la punta del loro bittino, per godere, per godere ad libitum, ad libitum, senza neanche bisogno di avere l'aiuto di un pene maschile, di grande o piccola dimensione che fosse, poi dovremmo anche chiederci di quali dimensioni siano i peni dei bronzi di briace, e i bronzi di briace sono stati fatti in epoca non sospetta, in epoca non sospetta i bronzi di briace, no, sapete, sono stati costruiti in epoca non sospetta, non in epoca sessuofobica, e bisognerebbe chiederci in elezione che misure avranno mai i peni di quei due guerrieri, i bronzi di briace, però vediamo un po' qua, io vi faccio vedere, ogni tanto vi ricordo che è esistita e ancora esiste questa bella sessuologa, questa bella sessuologa, vedete quanto è bella questa sessuologa, vedete come si chiama, cari amici, guardatela qua come si chiama, ma guardate, il suo rapporto sulla sessualità femminile ha venduto nel mondo 20 milioni di copie, ma ne avrà vendute i 30 milioni, perché qua questo è un ritaglio dell'anno 2000 dopo Cristo, vediamo cosa dice, cosa dice, la maggior parte delle donne, altro che quello psicologo scozzese di, la maggior parte delle donne riesce a raggiungere uno o più orgasmi solo se ricorre alla masturbazione, solo se ricorre alla masturbazione, ma sono pochissime le coraggiose che decidono di parlarne, soprattutto con il proprio compagno abituale, in genere questa capacità tutta femminile di afferrare il piacere viene nascosta, viene nascosta da chi la conosce la pratica, è un segreto da custodire gelosamente, ma perché? Ma perché non lo dicono le donne che godono tanto da soli, toccandosi l'acquittorio o facendosela toccare? Perché? Perché si vergogliano di dirlo? Non è difficile capirlo, mogli, fidanzate e amanti temono che la rivelazione metta a disancio il partner che potrebbe sentirsi, a torto, quasi inutile, come direi, e io che ce l'ho a fare? Il mio bel pene, che ce l'ho a fare io? Se tu vuoi, stai bene masturbando di da sola o ti accontenti io ti masturbi con la punta di un dito, che ce l'ho a fare io quello lì? E quando ero piccolino mamma mi diceva sempre che io ero il suo principino, e quindi, quindi, che fanno le donne? Quindi meglio fingere e rinviare a momenti di solitudine, di solitudine, la ricerca di quello a pagamento che il compagno potrebbe dare lui stesso se non pensasse, come spesso succede, che il sesso sia fatto di brevi preliminari e impetuosa penetrazione, senza nessuna stimolazione della clitoride. E l'hanno mandata via, poverina voi, ha lavorato per tanti anni al grande inserto settimanale del Corriere della Siera, io donna, io donna, c'è ancora oggi, io donna, ma Sheer Hyde non c'è più, questa bella sessuologa non c'è più, capito? L'hanno mandata via, perché si vede che i sessuologi, i sessuologi, poi per chi lo vuole leggere, il rapporto Hyde sulla sessualità femminile, vedete, è stato pubblicato da Boppiani, vedete quanto è bella, guardate quanto è bella, l'hanno mandata via, capito? L'hanno mandata via, l'hanno mandata via, perché diceva che, diceva sulle pagine di, il grande inserto settimanale, io donna, inserto del Corriere della Siera, diceva che le donne si arrangiano da sole, capito? Oppure, oppure, per godere, per arrivare al godimento, hanno bisogno di venire stimolate, dal polpastrello del loro compagno, ma come? Non c'è bisogno di un pene poderoso, non c'è bisogno? Poi l'hanno mandata via, l'ultimo intervento di Sheer Hyde su io donna del Corriere della Siera, lo trovate anche voi, cari questi, su web, su web, ecco qua, non c'è bisogno, le dimensioni, ma le donne, ma perché questo psicologo non ha fatto pure un'indagine per sapere, tra tutte le coppie di separati o di divorziati, non ha fatto un'indagine per sapere come c'avevano, che lunghezza aveva il pene dell'uomo, nelle coppie di separati di divorziati che oggi si separano tutti, divorzano tutti, perché non si fa un'indagine per sapere se le donne si separano sulla base delle dimensioni del pene, perché non si fa? E poi qua vi faccio vedere tecnica dello yoga, mio se a Eliade, bollati i boringhieri, ecco come si raggiunge, come si raggiunge il nirvana, il nirvana, ma qua, qua non si parla di dimensioni, dimensioni del pene, non si parla per raggiungere la dottrina tantra, il tantrismo, che è quella parte del buddismo che ti fa, che ti indica la strada per raggiungere il nirvana tramite l'attività sessuale e non parla delle dimensioni del pene, capito? Tutti questi preliminari mirano a rendere autonoma la voluta, considerata come l'unica esperienza umana capace di realizzare la beatitudine nirvanica e a dominare i sensi, cioè l'arresto seminale e il tipo di approccio che conta, è il tempo che si sta insieme, è il tempo che si sta insieme, come si diceva in un certo film, una toccata, una toccata, una sveltina, una toccata, come si dice, una toccata con fuga, una toccata con fuga, ma che ci fa una donna di una toccata, quelle povere ragazze intervistate dallo psicologo erano ricoyonite dalla cultura patriarcale e ci si mette la stessa psicoanalisi, il padre della psicoanalisi a fare a critori, demizzare le donne e critori, demizzare le donne parlando di orgasmo vaginale che ce l'hanno in profondità le donne mature, beh, adulte, e l'orgasmo critorideo che ce l'hanno con le donne immature, è certo che hanno il posto così, ma vado a fare un'indagine su perché avvengono le separazioni legali, i divorzi perché avvengono i litigi in famiglia vado a misurare i peni i peni i peni perché sono avvenuti i cosi le separazioni legali, i divorzi e tante altre cose belle o brutte va bene, va bene cari amici d'accordo vi leggete questo vi leggete guardate che spettacolo cari amici guardate che spettacolo tecnica dello yoga e qua si parla del tantrismo il tantra la dottina tantra che è una parte del buddismo che cerca di portarvi alla nirvana tramite l'attività omorora sessuale non si parla di misura del pene oppure cerchiamo di ipotizzare le dimensioni del pene in elezione dei bronzi di briace hai capito? i bronzi di briace ok cari amici vedremo se qualche ragazzo mi ci farà tornare ancora sulle dimensioni del pene ok? grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni